Ben ritrovati, presentato il progetto nazionale Food Hub, un tour che ha scelto quale prima tappa a San Benedetto del Tronto, un'occasione per valorizzare la nostra marineria, come ha sottolineato l'amministratore delegato del Centro Agroalimentare Piceno, Francesca Perotti. Sì, Food Hub è un progetto ministeriale appoggiato anche dalla Borsa Merci Italiana ed è importante proprio perché si basa sulla sostenibilità del nostro mare, dei nostri prodotti e la consapevolezza del consumatore, ossia educare sin dai bambini, quindi finché poi anche per i grandi, ciò che mangiamo, come lo mangiamo e come viene anche pescato, quindi ovviamente salvaguardando e tutelando il nostro mare e il nostro ambiente. Questo è molto importante perché questo progetto in primis per San Benedetto, essendo la prima tappa di 13 tappe nazionali, ha lo scopo quello di valorizzare la nostra marineria, quindi quello che è fondamentale per noi è dare valore a ciò che è l'asta, che è una delle aste più antiche in Italia, dove oggi l'obiettivo è proprio quello di valorizzare e dargli importanza. Oggi la rilevazione purtroppo del prezzo di alcuni pesci non viene attuata. Oggi l'obiettivo è quello che tutto il pescato che viene comunque rapportato su San Benedetto abbia una prevalenza a livello nazionale. Questo è l'obiettivo, quindi siamo contenti di questo progetto, siamo contenti che noi siamo la prima tappa e soprattutto perché è un forte stimolo a cambiare anche un po' la mentalità e la cultura su quello che noi mangiamo e soprattutto valorizzando il nostro territorio.